Riappropriarsi degli spazi cittadini, riqualificare attraverso i colori, l'arte e la cura del verde e allo stesso tempo creare occasioni di confronto, dialogo, inclusività e relazioni nel territorio coinvolgendo anche i più piccoli. La trasformazione di un albero nella via Angeli in una vera e propria opera d'arte realizzata da Lorenzo Ciulli insieme ad alcuni residenti del quartiere è stata decisiva per la nascita del progetto Ambience, officine di idee che si conclude domenica 22 maggio con l'inaugurazione delle installazioni artistiche. Ambience parte da un gioco con le signore del quartiere Angeli, quartiere in cui vivo ed è da lì che abbiamo voluto poi in un secondo momento con Lega Ambiente e Barbara Grillo approfondire il discorso e farlo diventare un vero e proprio progetto concretizzandolo. Quindi Ambience in realtà vuol dire tutto ciò che ci circonda e noi vogliamo farci circondare di bellezza. Quindi da lì nascono le opere che sono due installazioni che ho realizzato a seguire a questo albero e quindi altre due idee di albero però sempre installazioni artistiche è un'opera di Mauro Benincasa che è un murales sul vicolo Cardella. Questa prima parte termina con le installazioni, il murales ma soprattutto i laboratori con i bambini realizzati da Lega Ambiente che sono secondo me la parte più fondamentale perché siamo riusciti in qualche modo a dialogare con questi ragazzi ed è il nostro scopo appunto creare una nuova visione, una nuova comunità in qualche modo che si avvicini all'arte ed è tramite l'arte che vogliamo parlare con loro. Proprio l'idea di comunità è stata condivisa anche da Barbara Grillo tra i promotori dell'iniziativa che ha da subito accolto positivamente il progetto. Fa ripartire una comunità esistente, una comunità che ha voglia di stare bene con se stessi, con gli altri, nel proprio ambiente perché l'ambiente è tutto quello che ci circonda dentro e fuori quindi se ciascuno di noi sta bene dentro sta bene anche fuori ed è quello che noi auguriamo a tutta la comunità del quartiere Angeli. Tante le realtà coinvolte nel progetto. Una parte interessante è quella proprio della collaborazione oltre che con la comunità del quartiere proprio con la scuola quindi l'istituto comprensivo Vittorio Veneto, la parrocchia San Domenico l'approvazione del progetto da parte del comune e la sovrintendenza quindi in qualche modo nasce proprio una nuova squadra che mira al miglioramento in qualche modo del quartiere ma di conseguenza della città. Domenica 22 maggio sarà una giornata ricca di eventi infatti saranno coinvolti i quattro quartieri del centro storico nell'iniziativa Giro Tour dei quattro quartieri per l'appunto prevedendo la possibilità di effettuare passeggiate con visite guidate oppure una vera e propria corsa lungo un percorso di 7 chilometri. Un'iniziativa voluta dalle Gambiente e Fida Scaltanissetta abbracciata anche dalla diocesi e in particolare dalla parrocchia di San Domenico dal comune sovrintendenze e beni culturali e che vede il coinvolgimento anche di tantissime altre realtà locali. Nasce proprio dall'idea, dalla voglia di scommettere sul nostro cuore antico della città per fortuna in questo luogo è un luogo che è abitato ci sono tante belle energie per certi versi rispetto a qualche altra parte storica della città qua appunto ci sono buone energie ecco buone energie da cui si può ripartire appunto perché proprio la giornata è una giornata anche di beneficenza ci sono diverse aziende, associazioni della città che hanno messo a disposizione prodotti ed energie per questa raccolta fondi una raccolta fondi ripetiamo destinata alla comunità della chiesa di San Domenico quindi del quartiere Angeli.